Ciao a tutti cari amici dello Sporting Milano 3, siamo in compagnia come potete vedere con il nostro capitano, il numero 14 Marco Colombo, in vista della sfida di sabato sera alle ore 21 sul campo di Iseo per la quinta giornata della pool promozione. La partita tosta, andiamo su un campo tosto dove negli ultimi anni abbiamo faticato sempre e loro non sono in un buon periodo però dobbiamo dare fiducia perché se rischiamo di mettere il ritmo sono una squadra con tanti punti in mani, sono una squadra di gente esperta che gioca insieme da tanto tempo e quindi dobbiamo stare attenti per metterci qualcosa in più in difesa di quello che ci stiamo mettendo ultimamente e lavorare insieme in attacca. Può dire che bisogna ripartire dalla prestazione fornita in difesa nell'ultimo quarto nella partita persa poi contro Pre Valle? Sì, dobbiamo ripartire lì e cercare di farlo durare più di 10 minuti, quindi lavorare più insieme già dall'inizio senza aspettare che la partita vada in malora per capire che si deve alzare un po' il ritmo, un po' di energia, un po' di mani addosso, un po' di fisico e tutti quanti. Quindi se riusciamo a farlo dall'inizio possiamo mettere la partita sui finali giusti. Ringraziamo il nostro capitano e vi diamo appuntamento sabato sera alle ore 21 a Iseo, seguiteci e ti fate bianco-rosso.